Il segretario di Stato americano John Kerry è arrivato a Monaco, dove si tiene oggi una delicata riunione dell'International Syria Support Group. Al vertice, oltre all'Iran e l'Arabia Saudita, partecipa alla Russia e con l'avanzare della campagna militare di Mosca e di bombardamenti su Aleppo, il dialogo con Washington si trasforma sempre di più in uno scontro sul ruolo dell'aviazione russa. Maria Zakharova, portavoce del Ministero degli Esteri di Mosca. Reputiamo le affermazioni fatte pubblicamente da rappresentanti statunitensi, secondo cui la Russia utilizzerebbe in Siria bombe prive di sistemi di precisione e che dunque farebbero vittime civili semplicemente inaccettabili, ha detto. È pura fantasia, sono informazioni non confermate dai fatti. Attenzione ai massimi livelli anche con la Turchia. Secondo Ankara, la Russia bombarda senza pietà obiettivi civili il 90% degli oltre 6.000 raid russi hanno preso di mira civili ed opposizione moderata, secondo le parole del premier turco Davutoglu.